Il reparto riprende l'attività ma in realtà non si è mai fermato e quanto rimarca con soddisfazione e con orgoglio il dottor Enzo Bianchi, il primario del reparto di ortopedia dell'ospedale veneziale di Isernia, nella breve intervista ha inteso sottolineare il lavoro di squadra tra dirigenza, ASREM, medici, operatori sanitari sul campo in questa fase d'emergenza. Un esempio in questo senso virtuoso la gestione del paziente di Rocca Mandolfi positivo al covid ora trasferito al Cardarelli di Campobasso. Siamo tornati, anzi siamo sempre stati in normalità un po' più lavorativa ma siamo più che normali. Io non intendo fare né direzione né niente ma soltanto capito il mio stato d'animo fare i ringraziamenti a quando in questo momento ci sono stati molto vicini al direttore generale, a tutta la direzione sanitaria nessuno escluso e in più a tutti i sanitari che in questo momento stanno lavorando contro un nemico invisibile ma pericoloso. Però consentirmi dal profondo del cuore e con grande emozione ringrazio tutti i lavoratori del Santissimo del Veneto, scusate lo sbaglio providiano, i lavoratori di questo ospedale veneziale ma soprattutto i miei collaboratori, gli infermieri, i tecnici, gli OSS che con grande professionalità hanno accolto il paziente, lo hanno curato fino ad accompagnarlo in quel di Campobasso dove altri colleghi si stanno prendendo cura di loro. Ringrazio veramente tutti con un profondo orgoglio, grazie a questi ragazzi che con amore ci accompagnano tutti i giorni. Buona Pasqua a tutti.